Per la prima volta non è il ritratto sorridente, ma è piuttosto serio. Questa è la copertina del libro Obama, un anno di sfide, scritto dal giornalista Rai Claudio Angelini negli Stati Uniti da 13 anni. Il testo è stato pubblicato da Rizzoli ed è stato presentato alla Facoltà di Scienze della Comunicazione Sapienza Università di Roma. Il 2009 è stato l'anno di Obama, si legge nell'introduzione del libro, un anno gonfio di parole e di speranze, ma non sono stati 12 mesi facili, scrive l'autore, per il Presidente degli Stati Uniti, che ha conosciuto onori e amarezze. Perché per Obama è stato un anno di sfide non vinte? Perché Obama ha impostato fin dall'inizio per l'America e anche per tutto il mondo che nell'America si riconosce e ha l'America come riferimento una serie di sfide quasi impossibili da vincere. La pace e Medio Oriente, il dialogo tra le civiltà, un riequilibrio mondiale in cui non ci sia più una superpotenza unica, ma ci sia molto più multipolarismo, il superamento della crisi dell'economia, che è stata la priorità ovvia di tutto il primo anno, la soluzione della crisi ambientale. E in patria, in patria ha scelto come terreno di scontro il più difficile, quello della riforma della sanità, su cui tutti i Presidenti prima di lui, quelli che ci avevano provato, hanno fallito. Quindi logico che le sfide non siano state vinte, l'importante è che non siano state perse. Il problema è che Obama non è quello che gli americani si sarebbero aspettati. Questo in sintesi è stato l'intervento dell'altro relatore, il professor Stefano Rizzo. Come concordo con un giudizio che Angelini complessivamente dà di Obama. Lì l'analisi è molto sfumata, è molto raffinata, perché entra, trae dalle considerazioni sul suo primo anno di prova politica tutti gli elementi per arrivare a una conclusione. Una conclusione che dice, beh, Obama si presenta forse con due personalità, ma poiché nessuno, salvo di psicotici, hanno due personalità, qual è il problema? Beh, il problema è che Obama non è esattamente quello che molti pensavano, né in Europa, né neppure negli Stati Uniti quando l'hanno eletto. In altri termini, Obama è un pragmatista, un pragmatico, insomma, in italiano. Qual è il bilancio di un anno di presidenza Obama? Per me è più positivo che negativo. Certamente ha lanciato molte sfide, non ha ottenuto tutti i risultati che sognava di ottenere, non poteva ottenerli, però uno l'ha ottenuto, quello di aver cambiato l'immagine dell'America agli occhi del mondo, di averle ridato credibilità come paese che vuole la pace, come paese del dialogo e della diplomazia. E questo, secondo me, è un risultato eccezionale che pochi si potevano aspettare dopo la precedente presidenza. Il giornalista, infatti, scrive nel libro Obama non è perfetto, ma è la migliore carta giocata in questi anni dalla Statua della Libertà.